buonasera a tutti parliamo questa sera di cardus mariano o silibum marianum che è detto praticamente volgarmente il cardo mariano detto anche carciofo selvatico è della famiglia delle asteracee ed è un'erba biennale è costituita da delle foglie sul colore grigio verde circondate da spine e dei fiori di color diciamo tra il rosso e il violetto abbastanza intensi circondate da brattè anch'esse molto spinose la parte utilizzata in fitoterapia sono i frutti e i semi dai quali per macerazione viene estratta la tintura madre di cardo mariano o l'estratto secco sono prodotti molto attivi sul fegato e sono molto ricchi di principi attivi tra i quali quello diciamo da ricordare è la silimarina la silimarina ha una spiccata attività sulle cellule epatiche come rigeneratrice delle cellule quindi anche quando abbiamo quelle piccole patologie da insufficienza epatica la silimarina funziona proprio da riattivatore va a rigenerare la funzionalità delle nostre cellule epatiche la silimarina non è tossica potete utilizzarla tranquillamente sia come estratto secco che come tintura madre la leggenda sul cardo mariano narra che essendo su queste foglie verdi la presenza di alcuni puntini bianchi si narra che fosse del latte caduto dal seno di maria durante la fuga in egitto comunque a parte la leggenda il cardo mariano è una pianta utilizzata fin dall'antichità proprio come epato protettore ed epato rigenerante per cui potete utilizzarla senza problemi l'unica controindicazione è per le persone che soffrono di ipertensione perché contenendo tiramina non può essere utilizzata buona serata a tutti